Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto alla ricerca del branco dei triceratopi dell'episodio numero 13. Il triceratopo dalla maschera rossa. Buon ascolto. Dopo aver osservato il misterioso dinosauro, godendo una piacevole giornata, da Silvestro, Tenk e Achille arrivarono i genitori di Silvestro, con Enrico il Tteranodonte, insieme a Spike e il branco di Stegosauri, proponendo al piccolo Silvestro di guidarli alla ricerca del branco smarito, dimostrando fiducia in lui. Silvestro, orgoglioso, con grande responsabilità, riuscì a trovare il branco di suo padre, accorgendosi che il branco era stato posseduto da un triceratopo, dalla maschera rossa, il quale, in quel momento, stava combattendo contro un carcarodontosauro, un potente carnivoro. Lo scontro era molto pesante, ma alla fine uscì vincitore il triceratopo mascherato, dimostrando di essere molto feroce. William, ringraziando suo figlio, gli disse, «Bravissimo Silvestro, grazie a te e a tutti i nostri amici abbiamo ritrovato il branco. Io e tua madre siamo molto orgogliosi di te. Ora lascia fare a me. Probabilmente dovrò affrontare quel triceratopo, sperando di ottenere il nostro branco. Finito di parlare, William ci unse dal Rolson, il triceratopo dalla maschera rossa, sperando di trovare un accordo per evitare la lotta». Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao! Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, alla ricerca del branco dei triceratopi, dell'episodio numero 14. Rolson, la furia rossa. Buon ascolto. Dopo aver trovato il branco dei triceratopi, in possesso da un triceratopo dalla maschera rossa, William, per evitare una battaglia, giunse da lui, dicendogli, «Salve, triceratopo rosso. Sono venuto a sapere che ti sei impossessato del mio branco. Non voglio combattere. Sii gentile. Consegna a me il branco di triceratopi». Rolson, il triceratopo, dalla maschera rossa, rispose «Il mio nome è Rolson e ormai sono divenuto il nuovo capobranco dei triceratopi». Stando alle leggi dei dinosauri, per ottenere una cosa bisogna combattere. Come un tiranosauro che difende la sua preda avidamente, «Egli lotterà contro altri rivali per guadagnarsela. Perciò, giovane guerriero, sappi che se vorrai riavere il tuo branco, dovrai affrontarmi». William, perplesso, credendo di non essere all'altezza di affrontare Rolson, tornò da sua moglie, Roselia, e i suoi amici, per informarli della drammatica situazione. Saputo ciò, Silvestro, il piccolo triceratopo, notando che suo padre dubitava di se stesso, decise di affrontare lui stesso Rolson, dimostrando di essere un abile guerriero. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao.